Se si uscite, non piove più, arrivate in tribuna, venite lungo il percorso della sfilata, è il momento di divertirci, sì, vai con l'applauso, sezione di Marostica. E badate bene, Marostica non è famosa per le ciliegie o per la partita a scacchi di mente. Marostica è famosa per i suoi alpini, è famosa per la tenacia della sua gente, è famosa per un uomo Gianni Cecchi, medaglia d'oro, unico rifugio alle propagini dell'Ortigara. E spila con il messino della sezione anche un alpino in armi che rappresenta quella comunità femminile che oggi ha accesso al servizio militare e che onora la comunità nazionale con il suo lavoro, con la sua diuturna abbegazione, con il suo spirito di servizio. Qua, tra queste ragazze, ci sono neomamme che hanno voluto venire a sfidare. E viva! E viva! De Natalità! E lasciate parla agli alpini. E alle alpine, naturalmente. I sindaci, le fiamme dei gruppi della sezione di Marostica, che è una sezione movimentata, sale fino all'alta montagna, fino ai 2000 metri dell'Ortigara, scende fino alla pianura. Lambisce la sponda della brenda, si sente interprete di una vivace vita legata anche alla ceramica e muove un mondo, un mondo di sensibilità, un mondo di economia, un mondo di intelligenza. E anche loro, anche loro hanno adottato il motto delle sezioni vicentine, per non dimenticare, spilano gli alpini della terra vicentina e lo diciamo assieme, fedeli custodi dei nostri eroi, sezione di Marostica. Tanta roba, direi che questo striscone la dice lunga e è una similitudine profonda, ora come allora, gli alpini donano il loro sangue. Oggi è il sangue della vita, oggi è il sangue delle complesse operazioni chirurgiche, oggi è il sangue degli incidenti del sabato sera, oggi è il sangue di pronto soccorso e delle emergenze. Ieri era il sangue versato sulle trincee, era il sangue versato per arrestare un nemico, per fare fronte e baguardo in un'emergenza dove i nostri alpini e le nostre forze armate sono state chiamate ad intervenire a supporto della popolazione civile colpita dalle calamità. Eccoli qua, eccoli qua, Marostica, ricordatevelo, non è solo quella delle ciliegie e della partita di scacchi, Marostica è patria e terra di alpini con le palle. Eccoli qua, eccoli qua, eccoli qua, eccoli qua. Il sindaco di Vicenza vi sollege...